Eccoci qua rieccoci amici del canale youtube ben ritrovati con un nuovo contributo video in questo giovedì 10 di ottobre siamo durante la sosta facciamo analisi di quello che è il bilancio del Milan all'andamento del Milan in campionato in queste prime nove partite considerando anche le partite di coppa sono sette le gare di campionato e due invece le partite disputate in champions league dove il Milan ha una media facendo appunto la media tra campionato e champions di 1,22 punti guadagnati quindi è una media molto bassa viene fuori dalle quattro sconfitte due pareggi e tre vittorie appunto totalizzate dalle prime nove gare di Paolo Fonseca il dato impressionante è che il Milan di Fonseca a livello di media punti è il peggiore degli ultimi dieci anni degli ultimi dieci anni c'è qualcosa ovviamente che non va non solo nella guida tecnica nell'allenatore ma anche nella conformazione della squadra nella dirigenza quando si sbaglia e quando si ha una media punti così bassa sono tutti colpevoli tutti hanno la propria parte di colpe i giocatori che vanno in campo e non danno il massimo l'allenatore che forse non sa farsi capire dai giocatori e probabilmente non è l'allenatore adatto e giusto per questo Milan i dirigenti che hanno fatto delle scelte sbagliate chi ha preso Fonseca perché è stato preso Fonseca e non un altro allenatore anche i giocatori che sono stati appunto acquistati magari lasciando dei vuoti delle lacune e poi ancora più al vertice la proprietà che a sua volta sceglie i dirigenti da piazzare nelle caselle più importanti di un club se il proprietario del Milan Jerry Cardinale decide di affidare il Milan a Zlatan Ibrahimovic che non ha mai fatto il dirigente è chiaro che può essere un problema perché poi va in difficoltà in alcune situazioni particolari nel corso della stagione serve esperienza e esperienza Zlatan la sta facendo ora se il Milan non ha un vero e proprio direttore sportivo navigato ma ha uno scout promosso a direttore tecnico come Moncada è un altro problema c'è una grafica che quindi riguarda il Milan negli ultimi dieci anni e il Milan che ha la media peggiore, ribadisco, coppe e campionato è il Milan di Fonseca con 1.22 di media poi il secondo peggiore è quello di Giampaolo con 1.29 di media dopo nove partite 1.38 quello di Inzaghi 1.75 quello di Montella la media punti dopo nove partite poi al terzo posto il gradino più basso del podio Gattuso con 1.75 media punti Mijajlovic 1.76 il migliore Stefano Pioli negli ultimi dieci anni con 1.88 media punti dopo nove partite e c'è anche da dire che c'è una netta differenza tra il Milan di quest'anno a livello di forza di squadra e per esempio quello di Inzaghi o di Montella mi ricordo delle formazioni onestamente che non potevano proprio essere messe in campo il Milan attuale ha dei giocatori forti Mignan, Teo Hernandez, Leao, Reinders, Morata insomma giocatori di un certo calibro lo stesso Fofana, Pulisic e quindi è anche come dire peggiore la media di Fonseca se si valuta anche la rosa dei vari Milan a disposizione di questi allenatori che abbiamo citato ma ribadisco il problema è sì Fonseca che non riesce a governare al meglio questo Milan a condurlo al meglio questo Milan ma anche chi ha scelto Fonseca e su questo andremo avanti fino alla fine con questa nostra come dire idea con questa nostra idea in queste ore ha parlato anche Alvaro Morata Morata che ha avuto un grave problema di depressione come ha ammesso stesso lui è uscito allo scoperto con un'intervista mi spiace molto sinceramente quando si ascoltano queste storie ma sono le storie di tutti i giorni di tutte le persone al mondo possono avere queste problematiche anche i giocatori che guadagnano tanto hanno anche loro queste problematiche non è che sono supereroi o sono invincibili e quando sento queste storie mi rendo conto che molto spesso noi magari siamo anche un po' superficiali nel giudicare il momento di un giocatore perché guardiamo solamente il campo ma dietro al campo c'è una vita c'è la vita privata, familiare, dei sentimenti che ovviamente non possiamo sapere questo è vero, non possiamo sapere e lui dice che ha sofferto di depressione e quando passi per momenti veramente duri con depressione e attacchi di panico è uguale che lavoro fai o la situazione che vivi devi lottare contro quest'altra persona che hai dentro di te tutti i giorni e tutte le notti per me la cosa migliore era lasciare la Spagna non ce la facevo più lui dice che avvertiva su di sé una grandissima pressione una pressione talmente forte che ha portato poi Alvaro Morata a lasciare la Spagna e accettare la proposta del Milan addirittura c'è stato un momento in cui venivano messi in discussione anche veniva messi in discussione il suo ruolo di capitano con la nazionale spagnola ma parla proprio a tre mesi dall'europeo quindi è un qualcosa che è successo proprio recentemente sono stato malissimo dice Morata pensavo che non sarei più riuscito neanche a mettermi le scarpe e a scendere in campo però grazie a tante persone come Coche, Simeone Miguel Angel Gil il mio psichiatra il mio mental coach ce l'ho fatta noi siamo ciò che si vede alla televisione sui social però a volte la vita reale è molto diversa devi dare una certa immagine perché il tuo lavoro ma sono stato malissimo dice Morata sono esploso e a un certo punto non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe e quando lo facevo tornavo a casa di corsa perché mi si seccava la gola e mi si annebbiava la vista proprio la classica reazione di un attacco di panico non è facile sicuramente non è facile quindi si apre in questa intervista a Coppe il buon Morata che fa emergere un aspetto umano del suo recente passato proprio quando ha deciso di lasciare la Spagna per venire in Italia addirittura ha pensato anche di ritirarsi appena tre mesi prima dell'Europeo non ero nemmeno sicuro di poter tornare a giocare per una partita non sapevo ciò che mi succedeva è stato un momento delicato e complicato perché ti rendi conto che ciò che più ti piace nella vita diventa ciò che più odi ha detto Alvaro Morata il Milan ha ripreso già da ieri gli allenamenti al centro sportivo rossonero ovviamente non ci sono tanti giocatori molti sono impegnati con la nazionale appunto Morata Pavlovich gli americani insomma 15 giocatori prestati alle varie nazionali il Milan si sta allenando con i pochi giocatori a Milanello ieri il Milan ha ricontrollato lo stato fisico di Loftucic serve ancora un po' di tempo per il rientro in gruppo di Loftus stessa cosa per esempio per Sportiello mentre poi sappiamo e anche lo stesso Calabria che sta lavorando mentre poi sappiamo che c'è bisogno ancora di molto tempo per rivedere in campo Florenzi che si va verso fine stagione mentre per Ben Nasser i tempi sono quelli sono confermati quindi tra verso gennaio sarà verso gennaio Comunque Milan è che ha ripreso ad allenarsi sperando appunto che siano degli allenamenti poi produttivi perché poi al rientro in campo dopo la sosta c'è bisogno di vincere c'è l'Udinese c'è il Bologna c'è la Champions League poi il big match con Napoli insomma appuntamenti non facili per questo Milan che come abbiamo visto è il peggiore per media punti dopo le prime nove partite tra campionato e coppe Fonseca con 1,22 punti di media fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti un caro saluto a tutti un abbraccio ciao a presto grazie a tutti